Ehi cuore, oggi altre belle notizie, negativo anche Vito e Maria Teresa, oggi hanno avuto il risultato del tampone, ma così possono tornare a casa, è come se si stessero mettendo tante cose a posto, capito? E' buono, è buono cuore, è buono, tu che hai fatto? Ah a proposito, mi stavo dimenticando una cosa importantissima, ma tu domani mattina ti puoi far portare dalla finestra o è un problema, e no perché volevo passare da lì pure cinque minuti, dieci minuti, capito? Prima di andare su, volevo fermarmi a salutarti, tu che dici, si può fare o è un problema? Fammi sapere tu, tanto non mi interessa che perdo del tempo, non è tempo perso, è tempo per dedicare a mio fratello, quindi io domani mattina farei così, partirei da qua e poi ovviamente ti avviso perché ora passo da te, e niente, mi fermerei un po' lì, che dici cuore? perché secondo me domani, se partiamo domani che è mercoledì, noi giovedì mattina alle 10 abbiamo appuntamento là, e quindi sicuramente ripartiremo tra venerdì e sabato, quindi a questo punto scendendomi fermiere di nuovo lì da te, così siamo ancora un altro paio di giorno insieme. Che ne pensi cuore mio? Questi sono i miei programmi, penso che si possa fare tutto, penso che si possa, si possono incastrare tutti questi tasselli. Che dici cuore mio? Beh, fammi sapere, che ti mangio a mezzogiorno? Dai, mangia, mangia, dai, 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 dai cuore, dai che il traguardo è vicino, dai, forza, forza cuore mio, forza, forza, forza. Cosa ha detto? Vabbè io, Lanto mi ha detto che aveva sentito soragata, però non mi ha spiegato perché era impegnata in piscina, ma ha detto che dopo mi dice tutto, non mi ha detto nulla. Mi fa stare in pensiero. Sì, quella poi aveva da fare stamattina e quindi non mi ha detto nulla ancora. Ma non appena torna, mi faccio spiegare un po' tutto quello che gli ha detto. Io mi sono seduto un po' fuori e sto aspettando che tornano e a te come va? Mica ti stiamo ancora a dare sonniferi, sonniferi, sonniferi. E basta, basta dormire. Che stiamo a fare ora? Dobbiamo andare in letargo? Sì, siamo mammiferi sicuramente, però non facciamo parte della specie di mammiferi che vanno in letargo. Diciamoci da fare perché abbiamo da fare, cuore mio. Ci sono tante cose da fare. Non possiamo permetterci di dormire a vita. C'è tempo per riposare, cuore mio, c'è tempo. Non ti preoccupare, avrai tanto tempo per ozzare. Capito cuore? L'importante è che ci riprendiamo velocemente. Capito? Che dovevo dire? Ah, vabbè, il solito coglione si fa sentire ogni tanto. Manda i messaggi. Oggi è stato abbastanza pulito. Ha detto che vi perseguiterò fino alla morte. Cioè praticamente non ci vuole lasciare mai, capito? Vuole stare sempre attaccato con noi. Babbo, lasciamo di fare. Io gli ho detto, se chiama, quindi che se vuole da fare una cosa più giusta, una cosa più buona della sua vita, una cosa giusta che non ha mai fatto nella vita, è quello di lasciarci perdere per sempre e di mettersi da parte. Forse solo così potremmo un giorno perdonarlo, dopo tutto il male che ci ha fatto. Anche se sarà difficile perché io, te lo dico sinceramente, non lo perdonerò mai. Però io sono con mio fratello, rispetto molto mio fratello. Come si dice, quello che dice mio fratello è Bibbia. Quindi per il momento andiamo avanti. Ho detto, se chiama, ho detto, fanno aspettare un attimo. Anziché qui sul caldo dice, aspetta che ti devo dire delle cose. Ma tanto quello da dirai, non gli fai né caldo né freddo. E vabbè, noi comunque, io questo pensiero, ho detto, faglielo arrivare all'orecchio. Poi faceste quello che vuole. Tanto alla fine, per noi vale meno di zero. Vabbè, il mio fratello è il mio fratello è il mio fratello. Capito? Fai caldo, fai caldo. O fai caldo o fai freddo. Fai caldo. E ridi un po', hai rotto le balle, ridi, ridi, ridi. Dai, ridi, 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 ridi. Buon appetito, fratello mio. Fammi sapere, fammi sapere che domani mattina è papà fomma San Giovanni, papà fomma. Muoviti, fammi sapere, fammi sapere che non sto nella pelle. Ciao cuore mio, ci sentiamo dopo. Ti voglio bene assai assai. Mi raccomando, mi raccomando. Serenità, massima serenità. In tutto quello che facciamo e in tutto quello che faremo. Massima serenità. Ok cuore mio? Ti vubbia assai assai. Il mio cuoricino, un abbraccio forte e tanti baci. Papà fumba, papà fumba San Giovanni, papà fumba. Beh, e riiii. Ciao cuore mio. Ciao a due. Ciao a due. Grazie a tutti.